In questa domenica ci soffermiamo molto sulle tentazioni, le tentazioni alle quali bisogna sempre dire di no come ha fatto Gesù, perché anche Gesù è stato il primo ad essere tentato. La tentazione ci si presenta sempre con una facciata di bene per noi, è lì che c'è l'insidia. Questa è una cosa molto preoccupante. È lì che c'è l'insidia, si presenta come un bene per noi, ma un bene che ci soddisfa superficialmente, immediatamente. È la conoscenza della parola di Dio che ci permette di penetrare in profondità in quella tentazione, di scoprirla, di scovarla, quindi di gettare luce su di essa e di capirne la portata devastante per noi. Noi nella preghiera, nel dialogo costante con Dio, gli chiediamo di venirci incontro. La nostra preghiera è sempre una preghiera che nasce dalla nostra incapacità di affrontare situazioni più grandi di noi, perché è vero, se non siamo equipaggiati nella maniera giusta, se non riceviamo dallo Spirito questo equipaggiamento, rischiamo di soccombere davanti alle tentazioni che sono più forti di noi e noi ci cadiamo. È quasi per una sorta di coazione a ripetere, tendiamo sempre a fare le stesse cose. Ecco quel ritmo benefico di cui tu prima parlavi, che la liturgia ci impone, perché ci fa ripetere sempre nelle stesse cose, quindi progressivamente ci fa entrare nel mistero di Dio, può capitare anche all'inverso con il peccato, con la tentazione. Più ci cadiamo, quindi più non la combattiamo, più facciamo le stesse cose e più noi ci assuefacciamo a quella tentazione. E quindi sminuiamo la sua portata diabolica per noi, diabolica perché ci separa, ci separa da noi stessi, ci separa da Dio, ci separa dagli altri, quindi dobbiamo stare molto attenti a questa forza che il maligno purtroppo esercita su di noi, che anche siamo figli di Dio. Apro una parentesi, in quasi 50 anni di vita non ho mai osato declinare quel verbo, assuefare. Ah, ecco. Quindi adesso me la scrivo, me la segno, mea colpa. Chiudo parentesi, proprio a questo proposito, a proposito del male, di Satana, noi dovremmo avere pronto in collegamento Skype l'autore di un libro, perché il rito degli esorcismi, Don Pasquale, è da sempre oggetto di interesse e curiosità, però ci sono alcune visioni diverse, distorte. Film, racconti, romanzi si sono sprecati proprio su questo tema, questa è una frase tratta dal suo libro, Eccolo pronto. Gianluca Miele, benvenuto. L'autore del libro Le modifiche al rito degli esorcismi nel XX secolo. Ciao, grazie per avermi chiamato e per questa possibilità di parlare del mio libro. L'abbiamo fatto, intanto grazie a te lo abbiamo fatto, perché questo argomento, come dicevamo prima, insomma, destra tantissime curiosità. Principalmente ti chiediamo, visto che sei tu l'autore, come mai hai avuto questo desiderio di scriverlo, di metterlo nero su bianco? Allora, mi sono moltissime le ragioni. Adesso per stringere, per non farla troppo lunga, intanto io mi sono laureato in scienze religiose e ho affrontato quindi le varie discipline teologiche e si parla rarissimamente di quello che è il tema della lotta al male. Se ne parla sempre in maniera vaga e quindi sentivo proprio una lacuna nel mio percorso di formazione che ho voluto approfondire studiandola. E poi, come ho scritto nella frase che hai citato, è un tema di cui si sente parlare di continuo. Quindi, spesso se ne sente parlare, ma in maniera totalmente inappropriata, fantasiosa. Insomma, è un regno delle fake news. Quindi ho voluto provare a dare un contributo per mettere, diciamo, un po' di ordine nelle idee che circolano. Ho visto che, almeno dalle ricerche che ho fatto io, ma anche parlando con altri colleghi che si occupano di teologia, non c'è un lavoro sistematico su questa tematica specifica del rito. Si parla di esorcisti, si parla di prassi esorcistica, si parla di tante cose, ma del rituale sembra ci sia una specie di tabù, però non è un tabù perché è un rito pubblico. Siamo in libreria tranquillamente. È vero, è vero. E il rituale, appunto, è cambiato perché i tempi sono cambiati e tu proprio su questo fondi anche, insomma, gran parte delle informazioni presenti sul libro. È necessario cambiarle perché non si tratta di un sacramento? Questo si legge anche. Certo, il rito degli esorcismi è un sacramentale, quindi non ha la grazia di un sacramento, ma ha comunque la forza efficace della preghiera della Chiesa, che è una preghiera ufficiale. Tra l'altro è una preghiera ufficiale e riservata perché solo il vescovo può utilizzarla o il sacerdote è delegato dal vescovo, che prende il nome per l'appunto di esorcista. Non è una preghiera che può usare chiunque, nemmeno un sacerdote di sua volontà deve essere specificatamente autorizzata. Quindi ha una ritualità molto precisa che può subire certamente cambiamenti nel tempo. Il nuovo rituale però ha destato molte polemiche. strano a dirsi proprio dagli esorcisti. Non sono polemiche sterili, nate in contesti estranei o pubblicitari. Sono stati proprio gli stessi esorcisti, primo fra tutti il compianto padre Gabriele Amort, che sottolineavano come il nuovo rito non rispondesse alle esigenze pastorali di questo sacramentale. E quindi anche questa cosa mi ha incuriosito molto, per questo sono voluto andare ad indagare proprio sul testo, a capire perché, cos'è che non va nel nuovo rito, perché non è una formula magica. E quindi nel libro analizzo gli aspetti problematici del nuovo rito, gli aspetti anche positivi del nuovo rito, perché obiettivamente non è tutto sbagliato, anzi c'è tanto di buono. E cerco di fare un po' di luce su cosa sia successo. Si legge anche la tua passione, il tuo interesse proprio sull'argomento. Dicevi che non è un rito magico, in effetti è adattabile il rituale dell'esorcista all'individuo che si ha davanti. Sono sottolineati o comunque evidenziati due aspetti. La volontà, quindi del posseduto che deve richiedere la liberazione, e poi l'altro punto riguarda l'esorcista che deve avere la consapevolezza di essere soltanto un sostegno, un aiuto per il posseduto, così come poi lo diventa la chiesa. Esattamente, infatti il riso degli esorcismi è una preghiera e come tutte le preghiere richiede la volontà degli attori che partecipano alla preghiera. Quindi sia di chi, tra virgolette, lo subisce, sia di chi mette in pratica il sacramentale a nome e con la forza della chiesa. E questo proprio ci tengo a sottolinearlo perché spesso la filmografia, i libri, portano a vedere il riso degli esorcismi come se fosse una pratica a metà fra lo sciamanesimo e la magia più pura. E non è assolutamente questo, è una preghiera. Questo è bene ricordarlo, siamo nel campo delle preghiere. È vero, dovremmo cambiare anche un po' il nostro modo di pensare e di vederlo. Le modifiche al rito degli esorcismi nel ventesimo secolo, noi lo abbiamo presentato in pochi minuti, ma voglio proprio chiedertelo qui in diretta Gianluca, magari abbiamo la possibilità di risentirci in quaresima, che è anche il periodo adatto per parlare di questo. Ci soffermeremo su qualche aspetto particolare, proprio in concreto, se vuoi e se dai la tua disponibilità. Molto volentieri. Grazie. Intanto ricordo che il libro è edizione di Sant'Antonio, l'autore Gianluca Miele, che abbiamo avuto oggi il piacere di conoscerlo. Le modifiche al rito degli esorcismi nel ventesimo secolo e occhio insomma al maligno, perché si nasconde, si rende bello, ma affascinante, ma in realtà ha altri obiettivi e altri scopi. Grazie Gianluca. Grazie a voi e grazie di tutto. Buona giornata. A te. Bene, insomma, questa incursione di Gianluca ci fa enormemente piacere anche in questo periodo. Stiamo parlando delle tentazioni, di come vivere il deserto, la solitudine, e molto spesso proprio chi è in solitudine poi cade in ciampa, in queste negatività. Sì, la sapienza di Israele ci insegna che la nostra vita sulla terra è continuamente una lotta. È una lotta in cui noi siamo chiamati a vincere, però, come dicevo prima, non con le armi nostre, non credendoci già buoni, già arrivati, ma affidandoci più che altro alla potenza santificante di Dio, che come medicinale ci viene incontro e ci permette di affrontare il male in qualunque forma, dalla forma più subdola, come può essere la parola cattiva, il giudizio, il pettegolezzo, o lo scandalo, fino a queste forme un po' più estreme di cui prima ci ha parlato questo nostro amico, che sono sempre episodi di fronte ai quali noi ci sentiamo un po' sconvolti, quasi titubanti, non ci crediamo, effettivamente hanno quasi, hanno forse troppo del soprannaturale. Però noi sappiamo che come c'è la presenza del bene nella nostra vita, così come c'è anche la presenza del male, da cui noi dobbiamo sempre, sempre difenderci. Tu dicevi che il male si presenta, si veste di bello, no? Quindi ecco perché poi, insomma, facilmente si cade in tentazione. Ma come si fa a riconoscere? Noi abbiamo parlato di riti, di esorcismo, fino a che punto non c'è bisogno dell'esorcista e da che punto in poi invece è bene rivolgersi a qualcuno che ha questa, tra virgolette, vocazione? Eh, certo, si deve fare molta attenzione anche in questo, ovviamente è sempre auspicabile un confronto con un sacerdote che saprà più o meno dare delle indicazioni su come comportarsi. Però, ecco, io penso che il primo strumento che noi possiamo usare è un monitoraggio costante della nostra vita spirituale. Chi è vicino al Signore? È ovvio, la tentazione forse la sente, l'avverte di più, però assieme a questo sente anche la presenza confortante del Padre che ci sta vicino e che ci sorregge. In fondo noi lo chiediamo durante il Padre Nostro, non indurci in tentazione, o meglio ancora, con la nuova traduzione, non abbandonarci alla tentazione che è e sarà, come dicevo prima, una costante della nostra esistenza umana e della nostra vita cristiana. Però il Signore sta là e non ci abbandona. In questa fiducia noi ci possiamo buttare. Ecco, in questo periodo si parla tanto di vaccini, di virus, diciamo che noi siamo immuni grazie a Dio. Sì, grazie a Lui, grazie ai sacramenti, all'ascolto della parola che in questa Quaresima ci viene profuso in una maniera abbondantissima. Abbiamo tanto davanti a noi, tanto cibo grazie a cui sfamarci. Ci dobbiamo avvicinare a questa mensa e ne dobbiamo mangiare, dobbiamo farne eucaristia e quindi ringraziamento. Belle queste tue parole, bella questa puntata di oggi. Noi staremo a parlare con Don Pasquale per ore. Guarda, sicuramente anche chi ci segue da casa, sappiate che qualsiasi argomento voi tirate fuori, Don Pasquale è in grado di rispondere. Guidato dallo Spirito Santo. Guidato dallo Spirito Santo. Grazie Don Pasquale, ci ritroviamo la prossima settimana e continuiamo questo cammino in Quaresima insieme, grazie a Dio. E noi vi lasciamo con Fuori Programma, ma c'è ancora ripetita da ascoltare, da vedere, seguite la televisione. Come dice Papa Francesco, spegnete ogni tanto la televisione, però non perdetevi, insomma, Fuori Programma e qualcosa di bello. Perché comunque si parla di parola di Dio, insomma, quindi è un buon mix. Grazie a te Don Pasquale, buona prima domenica di Quaresima. Grazie a te e buona domenica di Quaresima a tutti.